Oggi voglio condividere con te il mio viaggio nel mondo delle erbe tintorie, un percorso che ho iniziato dieci anni fa e ha trasformato non solo i miei capelli ma anche la mia vita. Ciao sono Rosalia e ti do il benvenuto in questo spazio. Guardando indietro trovo davvero incredibile quante donne io abbia potuto guidare e ispirare a prendersi cura dei propri capelli con maggiore consapevolezza lungo questi dieci anni. Ricordo ancora i miei capelli spenti, fragili, secchi come la paglia e la mia cute che bruciava a causa delle tinte aggressive. Ricordo anche la frustrazione di spendere ogni mese una barca di soldi senza vedere risultati e la paura di non trovare mai una soluzione. Ecco perché ad un certo punto sfinita ho deciso che qualcosa doveva assolutamente cambiare. Non è stato un percorso facile, ho dovuto settacciare forum e siti online italiani e stranieri, sperimentare e imparare dai miei errori prima di trovare la formula perfetta per me e so che anche tante di voi si trovano ad affrontare le stesse difficoltà. La mia transizione verso le nè e le erbe tintorie non è stata veloce, anzi il mio è stato un viaggio lungo e impegnativo, cosparso di dubbi e di paure. All'inizio ero molto scettica, ero terrorizzata di ottenere un colore sbagliato rosso e di non piacermi. Ho passato mesi a studiare, a cercare informazioni per poter usare le erbe con consapevolezza e per poter ottenere una copertura dei bianchi soddisfacente. In poche parole avevo paura di iniziare un percorso che sembrava davvero complesso e richiedeva tempo per prendermi cura di me e la frustrazione di non trovare le informazioni giuste era davvero forte. E poi è arrivato il giorno decisivo, la mia prima applicazione con le erbe tintorie. Confesso che ero tanto tanto scettica, tanto da fare prima un test di prova su una ciocca nascosta, ma mi ricordo ancora come fosse ieri, come mi sentivo dopo aver sciacquato via la pastela e asciugato i capelli. Ero semplicemente sbalordita. Il risultato? Beh, il colore era meraviglioso, i capelli forti e voluminosi e una cute finalmente felice. E tutto questo dopo una sola applicazione? Ero davvero incredula. Il colore e la copertura dei bianchi superavano ogni aspettativa. Qualcosa di così semplice e totalmente naturale alla portata di tutte, ma di cui non si parlava ai tempi, almeno se non nei forum di nicchia. Ero davvero arrabbiata e frustrata e continuavo a chiedermi come mai avevo scoperto le neanche così tardi, perché nessuno me ne aveva parlato e se anche altre donne come me ignoravano il potere magico delle erbe tintorie. Quando è nato poi il mio brand Beautylicious Delights, inizialmente devo dire che non avevo incluso le erbe tintorie nel mio progetto di bellezza consapevole. Ma da lì a pochi mesi dopo ho realizzato che le sfide che ho affrontato io sono le stesse sfide che moltissime donne ogni giorno devono affrontare. Ho capito anche che il mio viaggio non riguardava più solo me, poteva diventare un faro per tutte le donne che come me volevano prendersi cura della propria chioma in modo consapevole. Dieci anni fa ho iniziato un percorso con voi, basato sull'ascolto, sul confronto e sulla condivisione. Insieme abbiamo sperimentato e ottimizzato l'uso delle erbe tintorie, ampliando anche la gamma di colori disponibili. Oggi non ci fermiamo più solo alle tonalità castane, nere e rosse. I biondi sono la portata di tutte, a patto di partire da una base chiara ovviamente. Se hai avuto modo di provare le erbe tintorie, sono certa sentirai il mio stesso entusiasmo e la mia stessa voglia di diffondere la voce. Ecco quindi perché ho creato questo spazio, per condividere la mia esperienza, i miei consigli e le mie conoscenze con te. Per essere quel faro nella notte che ti guida nel mondo affascinante delle erbe tintorie. E se io sono riuscita a coprire i miei capelli bianchi in maniera al 100% naturale, puoi farlo anche tu. Ma rispetto a me, tu non devi farlo da sola. Hai a tua disposizione tutta la mia esperienza e il know-how che ho acquisito in questi dieci anni e una community affiatata di Enine. Qui, in questo spazio, possiamo condividere le nostre esperienze, i nostri dubbi e le nostre scoperte. Se sei quindi pronta a cambiare rotta e a scoprire il potere delle erbe tintorie, io e il mio team siamo qui per accompagnarti. Insieme possiamo far fiorire i nostri capelli e la nostra autostima.